Pico della Mirandola fu avvelenato con l'arsenico. A chiarire la causa della morte del grande umanista e filosofo, scomparso a soli 32 anni e avvenuta in circostanze misteriose nel 1494 a Firenze, arriva ora uno studio di un team di ricercatori di alcune università, tra cui Pisa, insieme agli esperti del RIS di Parma. Ossa, unghie, tessuti molli, mummificati, vestiti, legno della cassa, trovati nella sepoltura e conservati in un chiostro vicino alla Basilica Fiorentina di San Marco, sono stati sottoposti a una serie di analisi di carattere biologico e chimico-fisico sia per confermare l'identificazione dei resti, sia per rilevare l'eventuale presenza del veleno. Così dopo 500 anni è emerso che il decesso fu provocato non dalla sifilide, ma dall'arsenico. Gli esami, ha spiegato Fulvio Bartoli, del Dipartimento di Biologia dell'Ateneo Pisano, hanno dimostrato che nei resti del filosofo erano presenti segni riconducibili a intossicazione d'arsenico e che i livelli del veleno erano potenzialmente letali, compatibili con la morte per avvelenamento acuto. Ovviamente è difficile dimostrare che sia stato un avvelenamento intenzionale, anche se questa ipotesi è sostenuta da varie fonti documentali e storiche. La nostra indagine, conclude Bartoli, ha riguardato anche le spoglie di un altro grande umanista, Angelo Poliziano, anche lui scomparso prematuramente nel 1494 e inumato in una tomba vicina a quella di Pico. In questo caso però non risulta confermata l'ipotesi dell'avvelenamento perché i livelli di arsenico trovati sono piuttosto attribuibili a un'esposizione cronica al veleno, causata probabilmente da fattori.